Girls while the girls watch the boys who watch the girls go by Eye to eye They solemnly convene to make the scene Which is the name of the game Watch a guy or watch a dame on any street in town Up and down Cortina Metraggio, undicesima edizione Siamo con un collega molto bravo, Stefan Amadil Che abbiamo apprezzato moltissimo, che ha Video Music E adesso invece apprezziamo nel suo sito Che è tenuto veramente in maniera splendida Complimenti, però diciamolo per i nostri telespettatori Sì, certo, Video Music era qualche lustro fa E invece adesso siamo su cinemaitaliano.info Che è il nostro giornale di cinema dedicato ai film Documentari corti e tutto il resto, festival anche Questo è uno dei primi della stagione E poi proseguiamo con tanti altri festival in tutto il paese Non andiamo troppo all'estero Seguiamo comunque il cinema italiano attraverso la rete e le tv E quindi nel nostro sito cinema italiano Riportiamo spesso le notizie e i successi del cinema italiano all'estero Tu sei una miniera di aneddoti Perché hai girato il mondo, hai fatto delle cose meravigliose Mi hai fatto morire quando ci hai raccontato della Russia Cose bellissime veramente e con personaggi incredibili Sì Al volo un ricordo Tu mi sembrai conosciuto anche il presidente tra l'altro Sì, siamo stati a casa del presidente del Soviet Supremo L'ultimo presidente del Soviet Supremo Ma una cosa divertente è una rilezione Mi sembra nel 1994-95 a Mosca C'era Gorbaciov che era andato a votare al seggio Quindi come succede sempre al seggio Tutti i giornalisti assaltano la personalità E nel caos con il microfono Con il logo della tv, appunto di Video Music Che città di prima, nel caos mi hanno spinto E ho dato una microfonata su un asma E lui mi ha detto Beh, un epiteto in russo che non ho mai capito Ma comunque ha capito che c'era una ressa incredibile Insomma mi sono vergognato Ho detto, vabbè, smetto qui Però fortunatamente abbiamo continuato Fenti tanti tanti auguri E poi ci rivedremo al prossimo festival A presto